È stato aperto il primo tratto di corso stretto interessato dalla nuova pavimentazione. Il Comune ha deciso di accelerare i lavori alla vigilia di Pasqua anche a beneficio delle attività commerciali. Un tratto è di nuovo percorribile. I lavori sono iniziati lo scorso 20 febbraio e non è mancata qualche polemica da parte di alcuni commercianti che si aspettavano una cantierizzazione diversa. Ma la ditta rosa ha veramente lavorato giorno e notte, si sta andando avanti molto velocemente. Anche per la seconda parte si procederà a stralci per terminare l'opera nel più breve tempo possibile. Il taglio del nastro sotto una pioggia fitta alla presenza della ditta, degli operai, di sindaco, vice sindaco e qualche commerciante. Sì, è un segnale di fiducia che vogliamo dare ai residenti, ai commercianti per la Pasqua anche se con il tempo un po' inclemente. Però è il segno della serietà con cui la ditta e l'amministrazione comunale stanno procedendo sulla riqualificazione di interi pezzi del centro cittadino e dall'altro è un segnale di rinnovata bellezza che servirà per rendere ancora più attrattiva la città e anche per recuperare quel senso di normalità che serve per percepire l'andamento della ricostruzione e anche l'ultimazione di diversi di ricostruzione.